Sono tanti i pellegrini che si sono messi in viaggio a piedi per le vie delle province di Frosinone, Roma e Latina per raggiungere Vallepietra sabato prossimo per la festa della Santissima Trinità, per rendere omaggio a quell'immagine impressa dall'undicesimo secolo sulla parete di roccia di una piccola grotta alle falde del Colle della Tagliata. Le compagnie i pellegrini entreranno preceduti dai rispettivi gonfaloni nella grotta cantando l'inno alla Trinità. La leggenda ci ricorda di un uomo che intenta a coltivare il proprio terreno sul Colle avrebbe visto i due buoi che trainavano l'aratro cadere nel vicino burrone. A corso sul limite del baratro sicuro della morte dei suoi animali l'uomo li avrebbe invece trovati in posizione quasi di adorazione davanti all'immagine della Trinità comparsa improvvisamente sulla parete della vicina grotta. Entriamo ora in dettaglio nel programma della festa che come sempre si divide in due momenti e luoghi diversi. Sabato 26 maggio dalle prime ore del giorno le compagnie a piedi e con i pullman inizieranno ad arrivare al santuario che aprirà le porte pellegrini alle ore 6 e avranno modo di visitare e pregare sull'icona della Trinità. L'evento principale è previsto la sera alle ore 19 con la messa presieduta dal vescovo diocesano Monsignor Lorenzo Loppa a seguire la processione con le compagnie che hanno raggiunto il santuario. Alle 20 e 30 si svolgerà nel paese di Vallepietra la processione con il quadro della Trinità con le migliaia di pellegrini accorsi. Un altro importante appuntamento sarà quello del pianto delle zitelle che si svolgerà domenica mattina al santuario a partire dalle ore 6 e 30. Subito dopo il canto sacro si svolgeranno le celebrazioni eucaristiche. È sempre grande, ha affermato Don Alberto Ponzi, rettore del santuario, il richiamo esercitato da questo luogo dove la fede e la bellezza della natura provocano le stesse grandi emozioni in chi lo ha già visitato e in coloro che vi giungono la prima volta. Il rettore augura a tutti i capi compagnia e a tutti i pellegrini un pellegrinaggio pieno di fede e devozione per la Santissima Trinità.